In Afghanistan è di oltre 30 morti il bilancio di un attentato a Kabul. Un kamikaze si è fatto esplodere in un centro educativo sciita a ovest della capitale, causando anche decine di feriti, tutti trasferiti in ospedali e cliniche della città. Le vittime sono principalmente giovani diplomati, che si trovavano nel centro educativo per preparare gli esami di ammissione all'università. L'attacco si è verificato in un quartiere popolato principalmente da membri della minoranza sciita degli Azara. Finora non c'è stata alcuna rivendicazione.